musica 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 ecco ragazzi ecco ragazzi ecco chai ecco chai ecco chai è figo c'è una foglia di banana sopra c'è una foglia di banana so quasi nel tempio sopra c'è anche maia e 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 Grazie a tutti. E qua c'è il famoso geyser thailandese e tuona anche un po'. L'autogrill, l'autogrill. Tempio. E questo è il White Temple a Changrai. C'è dentro il Tempio, fa caldissimo, fa veramente caldo. E questo è il bagno, il bagno più bello della Thailandia, detto anche, e in effetti è molto bello. Sembra un Tempio, invece un cesso. Come vi dicevo stiamo a Changrai, lì c'è il White Temple e qua c'è il bagno più bello della Thailandia, sia fuori che dentro, dentro è uno standard quasi europeo. E ancora il bagno, il White Temple. Ecco qua, molto bello. Sempre sul White Temple. Prosegue la visita al White Temple, che non è antico, è abbastanza turistico diciamo, però merita la visita perché è proprio carino. Con il tipico pino thailandese. E questo invece è il Tempio Blu. E questo è l'interno del Tempio Blu. E questo è il Blu Temple, come in tutti i tempi bisogna essere scarte, e questo, ecco, sono i dragoni qua, la protezione del tempo, ma la facciamo una fotina, e avanti così. Grazie. Grazie.